Bologna, l'ente per il turismo sloveno, ha organizzato un incontro per mettere in contatto i bayeri italiani con le strutture ricettive del paese est europeo. Un'occasione per gli operatori del nord-est d'Italia di approfondire la conoscenza di un territorio già noto al turista italiano per le terme, la costa e le meraviglie naturali. Ci presentiamo come l'offerta turistica slovena dopo due anni di nuovo a Bologna, perché l'Italia è il nostro primo mercato con 400 mila arrivi, un milione di pernotamenti, di cui la grande parte viene dal nord-est. L'ospite italiano viene per le terme, per la costa, ma sempre di più anche per la natura, per i laghi, per i fiumi, per i boschi che ce ne sono tantissimi e per la natura. Quando chiediamo agli ospiti italiani cosa gli è piaciuto di più in Slovenia al primo posto, di solito, menzionano la natura. L'Asera ha anche deciso, questa linea nel turismo, ha deciso per un turismo ecosostenibile, un turismo verde, perciò anche il nostro slogan sta sul fondo verde. Bologna non è una città qualsiasi per l'ente sloveno. La vicinanza geografica fa infatti dell'Emilia-Romagna una delle regioni più importanti per gli ingressi turistici in Slovenia, seconda in Italia soltanto al Veneto. Poche ore di automobile che separano la Slovenia dal nord-est italiano ne fanno una tappa ideale anche per i weekend. Hanno partecipato al workshop 25 agenti di viaggi provenienti oltre che da Emilia-Romagna e Veneto anche da Toscana e da San Marino. Oggi ci siamo stati qua a Bologna, ci siamo presentati con i nostri partner, tra cui la maggior parte erano le terme, poi erano anche delle regioni, la nostra capitale, Ljubljana, Maribor, la capitale della cultura nell'anno che sta arrivare. Devo dire che siamo stati molto contenti con l'interesse degli ospiti italiani, con le agenzie, con i tour operator che sono arrivati a venire e speriamo di incontrarli presto in Slovenia. Buongiorno, vengo dalla catena più grande alberghiera slovena, si chiama Sava Hotelsen Resorts, sono alberghi sul lago di Blet e anche 5 centri termali. Abbiamo diverse strutture, alberghi di 5, 4, 3 stelle, appartamenti, bungalow, casette, campeggi e anche parchi acquatici. Siamo molto interessanti per famiglie, per coppie, per terza età, così per tutti gli ospiti. Siamo in mezzo alla Stiria slovena, due ore da Trieste con l'autostrada, abbiamo le termine con l'acqua termale e anche un centro scistico. Tutte e due termine, centro scistico, roglie, termine trece, sono collegate anche con un chat, così i nostri ospiti, oltre a fare il benessere con il fango alpino, con le terapie e dei massaggi con le erbe alpine, possono fare anche lo sport sulle montagne, fare il passeggiato, il trekking o fare anche sci, fare le metri nella Slovenia. Vi invito a farvi una vita sana con l'acqua, nostra, venite e godetevi la natura da noi. La nostra dita rappresenta quattro diverse strutture a lago di Blet, l'albergo di quattro stelle, tre stelle, una residenza di ex presidente di Jugoslavia, Tito. Tanti italiani vengono da noi anche a giocare in casino perché l'entrata è libera o vengono in centri benessere perché abbiamo più o meno in tutti i nostri alberghi centri di benessere. E in inverno vengono a sciare perché è anche da noi il campionato di sci in Crancagora dove Alberto Tomba ha vinto tanti campionati. Nel nostro centro congressi Mons che si trova a Ljubljana abbiamo tra l'altro ospitato anche degli eventi europei grandi tipo la presentazione della nuova Renault Twingo e della nuova Škoda Yeti, proprio nel nostro albergo. I'm here to presentate Maribor and because next year Maribor will be a European capital of culture and we will have special events during the whole year and this is a special event moment for the city that invites many tourists because of its attractions, its nature, its food, wine, because Maribor is a city that has the oldest winery in Europe. No, not in Europe, actually in the whole world so it's very famous because of its wine. Un'organizzazione che generalmente rappresenta una bella sorpresa per noi italiani. Ordine, pulizia, ambienti davvero molto confortevoli, molto vivibili ed è una delle caratteristiche che poi tra l'altro i turisti più apprezzano quando vengono a visitare, in particolare poi Ljubljana che dicevo prima è una città in cui vivo. Centro storico molto raccolto, per la gran parte pedonale, diversi stili architettonici che si mischiano, si intrecciano e che in questo ambiente, dicevo prima pedonale, lasciano tempo davvero per potersi rilassare, per poter godere una giornata, un soggiorno che generalmente è molto apprezzato. Durante la cena, gli ospiti del workshop hanno potuto partecipare all'estrazione di alcuni soggiorni offerti dagli operatori presenti nelle strutture slovene. Qual è il miglior modo per avviare nuove collaborazioni? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.